Nella mia presentazione della prossima mezz'oretta volevo farvi vedere un pochino qual è l'approccio che HP ha alla protezione dei dati, soprattutto per quello che riguarda l'ambiente virtuale. Mi piacerebbe darvi qualche suggerimento su alcuni passi che secondo noi, secondo HP, sono importanti per poter capire come preservare e come proteggere le informazioni all'interno di un data center virtuale. Iniziamo con il primo passaggio, il primo step, che è quello di capire quelli che possono essere i cosiddetti business requirements i requisiti del business nell'ambito della protezione dei dati. Quando decido di implementare una strategia di backup, di disaster recovery e di protezione in generale delle mie informazioni, devo capire che cosa ho e soprattutto che cosa voglio fare che cosa intendo mettere in piedi, come sono fatti i miei dati. Per cui partiamo da alcune considerazioni. Appena decidiamo di implementare un ambiente virtuale, è tutto molto facile, molto semplice, con un click siamo in grado di mettere in piedi e quindi una macchina virtuale. Possiamo decidere di lavorare su n tipologie di applicazioni differenti. Man mano che andiamo avanti evolvendo il nostro data center, inizia a esserci un po' di complessità, nel senso che il volume comunque aumenta, anche se siamo nell'ambiente virtuale, è talmente facile creare nuove applicazioni, con le nuove macchine, che cresce il volume, cresce la varietà, la varietà di applicazioni, ma non solo, la varietà anche di utenti che accedono alla nostra infrastruttura virtuale e che hanno dei requisiti differenti, hanno delle esigenze differenti nell'utilizzo delle applicazioni. Per cui il nostro data center, seppur agile, diventa un po' non strutturato. Uno degli obiettivi della protezione dei dati, in generale l'obiettivo della protezione dei dati, o del backup, o del disaster recovery, è quello di garantire la continuità del business, quindi essere in grado in qualsiasi momento, dopo qualsiasi tipologia di failure, di riprendere le proprie attività, soprattutto con un focus su quello che è la criticità del business. Quando noi parliamo del nostro data center virtuale, non tutto sarebbe da trattare nello stesso modo. Solo una piccola parte è quella che garantisce effettivamente alle aziende di far business, solo una piccola parte è quello che viene definito come un revenue generating data center. Ed è proprio su questa differenza che ci dobbiamo focalizzare, sul capire che cosa, infine, ci permette di far business, e che cosa quindi dobbiamo proteggere in maniera differente rispetto al resto del nostro ambiente virtuale. In quest'altra slide vediamo una slide di analisti. Quando parliamo della protezione dei dati, soprattutto quando mettiamo in piedi una strategia di protezione dei dati, quindi abbiamo tutti i nostri dati non più online, ma protetti, backupati, abbiamo una quantità di dati abbastanza piccola, che corrisponde sempre secondo gli analisti al 10%, una quantità di dati che sono quelli effettivamente critici, quelli che hanno un cosiddetto recovery time objective immediato, necessitano di essere ripristinati il prima possibile, proprio perché critici, proprio perché permettono all'azienda di andare avanti. Per questa tipologia di dati siamo disposti anche a investire in quello che è la protezione dei dati una certa quantità di denaro. Come dicevo è una piccolissima quantità, corrisponde quasi al 10%, ovviamente non in tutte le aziende, però mediamente è una piccola quantità. Se poi guardiamo invece un pochino più avanti nel tempo, nel senso quando noi proteggiamo i nostri dati, i nostri dati di una settimana fa, due settimane fa, un mese fa, sono dati comunque importanti che servono per il lavoro quotidiano. Sono i cosiddetti operational data, sono quelli che permettono, anche in questo caso, di far business, permettono agli utenti di lavorare, per i quali magari ci possiamo anche permettere di avere un downtime a fronte di un failure un pochino più elevato rispetto ai precedenti, e per i quali appunto siamo disposti, sì, a proteggere i nostri dati spendendo, introducendo delle tecnologie, un pochino meno rispetto al precedente. Infine c'è la stragrande maggioranza dei dati, quasi il 70%, che sono i cosiddetti legacy data, ovvero i dati che si servono, però sono comunque abbastanza vecchi, raramente vengono acceduti. È vero che ho la necessità di, nel momento in cui ho una strategia di backup, metto in piedi le mie retention, decido di mantenere per tot tempo, però appunto difficilmente ho la necessità, l'esigenza di ripristinarli. E infatti spesso comunque le tecnologie che vengono implementate sono quelle un pochino più economiche, diciamo proprio dal punto di vista della protezione dei dati. Che cosa succede però? Che con il passare del tempo, mantenendo le nostre copie, mantenendo i nostri dati protetti, la probabilità di riutilizzare questi dati è sempre più bassa, quindi va decrescendo nel tempo. Però paradossalmente la quantità di dati cresce. Perché? Perché io ho tutte le mie copie che vengono mantenute lì, che potrebbero servire, e che vanno ad accumularsi alle precedenti. È vero che poi i vari nastri vengono, una volta scaduta la retention, sovrascritti, però insomma questa quantità di dati cresce. E quindi è un po' un paradosso, nel senso che ho più dati che utilizzo meno, e quasi meno dati di cui ho effettivamente bisogno. ecco perché quando dobbiamo introdurre o migliorare la nostra strategia di backup e di protezione in generale dei dati, dovremmo fare attenzione proprio alla nostra retention. Anche perché altrimenti rischieremmo di essere in una situazione del genere, dove le n copie delle nostre informazioni, dei nostri dati, subiscono questa accelerazione, questa crescita esponenziale, della quale poi non ce ne facciamo effettivamente granché. Il secondo passaggio, quindi bisognerebbe capire com'è il nostro livello di retention, rivedere un po' le nostre strategie di retention dei dati. Il secondo passaggio è quello dedicato un pochino alla infrastruttura. Tradizionalmente, che cosa succede nelle aziende? Abbiamo il nostro ambiente di produzione, dove effettivamente appunto facciamo il nostro business, con le nostre applicazioni. Spesso e volentieri c'è un sito di backup, o comunque ci sono delle tecnologie che vengono utilizzate per avere un primo punto di recovery dei nostri dati, dove spesso si usano magari anche tecnologie di deduplica. Abbiamo anche magari il sito di replica o di disaster recovery, che si voglia dire, dove magari l'hardware che utilizziamo è differente, magari di tipologia diversa, magari proprio di tecnologia non uguale a quella dell'ambiente di produzione, perenne motivazioni. E poi può succedere, spesso e volentieri, che ci sia anche un ulteriore data center, piuttosto che un ulteriore ambiente di archiviazione, dove vengono utilizzate ancora altre tecnologie più dedicate a quelle che è la retention a lungo periodo, quindi sono i tape, i magnetotici e quant'altro. Con questo tipo di architettura sicuramente siamo tranquilli, sappiamo che tutto è protetto, tutto è replicato, qualunque tipo di fallimento lo possiamo affrontare, però nello stesso tempo utilizziamo una grande quantità di hardware. Abbiamo visto prima che tutto diventerà software, potremmo iniziare a pensare effettivamente di ridurre, di ottimizzare quello che è l'ambiente attuale. oltre ad avere tanto hardware abbiamo tante tecnologie differenti, quindi tanti formati diversi, abbiamo tanti prodotti, anche software che ci permettono di gestire i diversi step, e magari abbiamo anche delle difficoltà nel trasferimento di dati, dove magari le bande disponibili tra i vari siti remoti, piuttosto che tra il sito centrale e il sito di replica, non sono così elevate, possiamo avere anche delle problematiche di questo tipo, che magari non ci preoccupano, nel senso che il tempo che ci vuole ce lo prendiamo, però sarebbe qualcosa da tenere in considerazione. Cosa potrebbe succedere se noi decidessimo di razionalizzare e standardizzare un pochino la nostra infrastruttura? Sicuramente potremmo già solo per il fatto di pensarci su, avere un inventario di quelle che sono le capabilities, piuttosto che proprio l'infrastruttura del nostro ambiente potrebbe servire per iniziare a avere sotto controllo quello che è l'ambiente, che magari nel corso di anni è cresciuto, rispetto poi modificato, magari rispetto a quelli che sono state le pianificazioni iniziali. Spesso e volentieri, come dicevo, ho hardware o tecnologia diversa, quindi comunque sono proprietario con delle capex che magari aumentano di hardware differente con meccanismi differenti di gestione di quelli che possono essere i contratti di acquisizione, ammortamenti e cose varie. Posso rendermi conto che nella mia process review effettivamente alcuni di questi processi sono time consuming, non solo time consuming, ma anche dal punto di vista operativo, coinvolgono tante persone, quindi potrebbero essere in qualche modo rivisti. Proviamo a pensare adesso, se decidessimo di focalizzarci sulla parte di replica, nelle tecnologie moderne, ovviamente anche di HP di cui sono portavoce oggi, c'è la possibilità di andare a sfruttare i meccanismi cosiddetti di snapshot o di point in time copy di tanti virtual array, quindi di tante tecnologie storage che sono in grado di aiutarci a normalizzare determinati processi, come nello specifico quello di replica. e nell'avere quello che è l'automazione necessaria dal punto di vista proprio del processo per poter far sì che nel momento in cui io lavoro, quindi sto gestendo l'ambiente di produzione, in maniera quasi automatica gestisco il mio ambiente di replica, il mio ambiente di disaster recovery, che è in questo caso identico all'ambiente di produzione. ho ancora delle debolezze perché se io mi metto in queste condizioni spesso e volentieri o mi lego a un vendor o comunque ho delle spese capex, come dicevamo prima, o spesso e volentieri magari introduco una tecnologia molto all'avanguardia, molto avanzata, molto costosa però e magari della quale non vado a sfruttare tutte le funzionalità. Se però questo tipo di tecnologia iniziassi ad applicarlo anche a quello che è l'ambito del vero e proprio backup, quindi non solo alla replica, adesso ci spostiamo sul backup, comincerei a trarne vantaggio. Trarne vantaggio nel senso che nel momento in cui io lavoro sull'ambiente di produzione sono anche in grado automaticamente di creare delle copie di backup che sono online nel mio ambiente di produzione. non ho bisogno di hardware aggiuntivo. Sono delle snapshot del mio ambiente, quindi non vado a impattare quello che è il lavoro quotidiano. Nello stesso tempo, come dicevamo prima, ho anche la replica, quindi tutto quello che viene utilizzato all'interno del mio ambiente di produzione viene utilizzato automaticamente nell'ambiente di replica e quindi anche l'ambiente di replica diventa un secondo ambiente di produzione con anche la parte di backup. Quindi io anche dall'ambiente di replica sono in grado di crearmi o di ripristinarmi il mio ambiente di lavoro. E qui vediamo che la standardizzazione effettivamente sta cominciando a portare dei benefici. Mi manca la fase, diciamo, finale, la fase di archiviazione. Tutti i soldi che io ho investito in un determinato tipo di tecnologia appunto che mi garantisce l'archiviazione a lungo termine, che cosa ne posso fare? Potrei eliminarla, però giustamente ho investito dei soldi. Per cui cosa faccio? Semplicemente la aggiungo come step successivo di un processo chiamiamolo sempre di replica ma di replica intelligente che mi consente di andare a utilizzare sempre queste tecnologie ad avere lo step finale o lo step successivo laddove comunque o da un lato voglio mantenere l'investimento fatto o dall'altro lato voglio o ho la necessità di utilizzare proprio questo tipo di tecnologia per andare appunto ad applicare quelle che possono essere dei requirement di mantenere i dati a lungo termine e quindi essere in grado anche dopo parecchio tempo magari per legge mi viene richiesto che questi dati devono essere mantenuti e posso decidere di farlo. Comunque la mia tecnologia è stata standardizzata nello specifico un po' l'approccio di HP in generale sapete che HP è un fornitore di tutto di hardware, di software e di servizi nello specifico nell'ambito hardware la strategia di convergere l'infrastructure fa sì che qualsiasi ambiente che debba essere gestito quindi di produzione di replica di archiviazione possa essere standardizzato attraverso tecnologie che sostanzialmente si parlano tra di loro e che permettono appunto di gestire qualunque ambito specifico sul quale però sostanzialmente il software la fa da padrone ovvero tutto viene gestito ho l'hardware a disposizione ho un hardware standardizzato nei miei vari siti ho un software che è in grado di far che cosa se il mio ambiente di produzione è standardizzato so che l'impatto ci sarà comunque sicuramente a fronte di un failure ma è un impatto positivo sul mio backup perché in un ambiente standardizzato sono in grado di applicare quelle che sono le mie regole di protezione utilizzando degli software specifici come ad esempio Data Protector Data Protector è la soluzione enterprise di HP software autonomi in grado di proteggere il proprio ambiente nello specifico ambiente di produzione l'ambiente di replica applicando quelle che possono essere le diverse strategie di point in time copy come dicevamo prima piuttosto che di archiviazione su disco piuttosto che archiviazione su nastro applicando le varie regole di deduplica attraverso tutta l'infrastruttura l'obiettivo di HP Data Protector è quello di proteggere qualunque tipo di ambiente dall'ambiente semplice fisico all'ambiente complesso virtuale al data center dove ho presente sia la parte fisica che la parte virtuale che magari la parte in cloud direttamente da un'unica console quindi andando a standardizzare a ottimizzare quello che è l'ambiente da gestire vediamo nello specifico un paio di slide che sottolineano alcuni punti di forza della soluzione HP Data Protector poi nello specifico abbiamo uno stand fuori siamo a disposizione per qualunque tipo di domanda più tecnica di dettaglio uno dei punti di forza è che HP Data Protector è il tassello chiave della strategia di deduplica di HP deduplica federata store once perché è un tassello chiave perché attraverso Data Protector sono in grado di applicare tecnologie di deduplica appunto federata quindi a seconda della necessità a livello di sorgente a livello di backup server o a livello di target cosa significa? che se ho una realtà virtuale o fisica dove i miei le mie risorse sono comunque limitate dove ho la necessità magari ho un sito remoto ho poca larghezza di banda a disposizione posso pensare di applicare la deduplica a livello sorgente quindi sul mio server applicativo deduplicare i dati prima di spedirli e di poterli proteggere fisicamente sul data center centrale andando appunto a risparmiare soldi di eventuali risorse da aggiungere piuttosto che bandwidth a disposizione piuttosto che proprio tempi proprio perché l'operazione di deduplica avviene prima di mandare i dati trasferire i dati al data center centrale posso trovarmi in alcuni casi dove magari il server applicativo è già sovraccaricato proprio perché applicativo in termini di risorse proprio dall'applicazione dall'applicativo stesso che sta girando quindi posso pensare ad introdurre uno step intermedio ovvero far sì che la deduplica dei dati avvenga a livello di backup server riducendo appunto il carico di lavoro su quello che dando il carico di lavoro al server di backup che è nato proprio per questo e migliorando proprio il processo di efficienza dei dati il terzo punto dove posso applicare la mia deduplica è quello a livello target a livello target che cosa significa che io posso mantenere il mio flusso di dati e utilizzare delle tecnologie che sono fatte apposta per effettuare la deduplica che possono essere tecnologie virtuali storage defined come abbiamo visto prima possono essere delle appliance vere e proprie fisiche l'importante o la cosa effettivamente valida è che è tutto gestito centralmente dal software e soprattutto nell'ottica di federated deduplication di HP alcuni di questi processi che abbiamo visto possono essere gestiti a livello sorgente alcuni a livello di backup server e altri a livello target quindi mantenendo un'estrema flessibilità all'interno del mio flusso di backup senza necessità di reidratare i dati tra uno spostamento ed un altro perché l'algoritmo di deduplica è sempre lo stesso l'algoritmo di deduplica si chiama store once e si trova all'interno del software data protector così come all'interno delle appliance fisiche piuttosto che virtuali e consente appunto nel momento in cui ho la necessità di ripristinare un dato di non dover necessariamente sapere quale tipo di deduplica utilizzato se sorgente backup server o target perché tanto è diciamo deduplicata nello stesso modo e quindi il sistema store once è in grado di ripristinare e ricostruire il mio ambiente che ha subito il failure a partire appunto dal backup presente vediamo nello specifico invece un ambiente virtuale quando dobbiamo backupare un ambiente virtuale ci sono tre livelli di protezione che possiamo fornire ad esempio per VMware ma non solo e poi vedremo con data protector innanzitutto è l'integrazione con l'hypervisor come sapete VMware così come altri hypervisor mettono a disposizione dei tool per backupare il proprio ambiente che sfruttano i meccanismi di snapshot dell'hypervisor stesso e che consentono di avere un'immagine una appunto snapshot una fotografia del proprio ambiente delle proprie macchine virtuali che poi possono essere backupate e salvate su diversi tipi di tecnologia l'integrazione di data protector con il via dp quindi con queste app che vengono messe a disposizione da VMware è flessibile e molto forte sono molto integrati nel senso che nel momento in cui questa integrazione viene implementata qualunque tipo di macchina virtuale aggiuntiva piuttosto che qualunque tipo di spostamento da un hypervisor ad un altro venga fatto da VMware in maniera automatica questo viene riconosciuto dalla soluzione data protector e quindi automaticamente vengono applicate le policy di sicurezza per quella particolare macchina virtuale inoltre data protector fornisce la possibilità di effettuare quello che viene definito come un granular recovery quindi a partire da un backup di un'immagine della mia macchina virtuale sono comunque in grado di ristorare il singolo file o la singola cartella la singola granularità che voglio direttamente dalla console del v-center o dell'hypervisor proprio per far sì che l'ambiente di backup risulti il più flessibile possibile da un lato e dall'altro mantenga comunque il flusso la velocità insomma quello che viene richiesto la finestra di backup corretta inoltre nelle ultime release di data protector sono state inserite delle opzioni aggiuntive in termini di restore posso restaurare da ambiente virtuale a ambiente fisico o virtuale su virtuale fisico su fisico oppure posso restaurare anche più di una copia magari per test piuttosto che per troubleshooting piuttosto che come sorta di diciamo creazione appunto di ambiente di sviluppo o di test aggiuntivo il secondo livello di protezione dell'ambiente virtuale è quello che va più nel dettaglio delle singole macchine virtuali quindi ho un supporto a livello applicativo un data protetto esistono degli agenti specifici che consentono l'integrazione e la possibilità di sfruttare tutte le capabilities che il fornitore dell'applicativo mette a disposizione anche nell'ambito di backup attraverso appunto degli agenti specifici ovviamente tutto quello che abbiamo visto prima riguardo la deduplica è applicabile anzi spesso e volentieri viene applicato soprattutto lato virtualizzazione quindi a prescindere dal fatto che l'ambiente sia virtuale la tecnologia di deduplica è assolutamente funzionante il terzo lato è quello infrastrutturale quindi la possibilità di svincolarsi dall'hypervisor svincolarsi dal software dall'applicativo utilizzare i meccanismi infrastrutturali quindi le tecnologie di cui vi parlavo prima quando pensavamo alla replica di un data center su un altro sito quindi Data Protector si può interfacciare con i vari virtual array sfruttando appunto le capabilities di point in time copy e avendo quindi a disposizione sull'array di produzione delle copie che sono delle copie di backup e che posso utilizzare come recovery istantaneo semplicemente facendo puntare il mio applicativo il mio hypervisor ad esempio a queste copie che sono messe a disposizione senza andare a recuperare i dati da quello che è un ambiente di backup vero e proprio ne parliamo di zero downtime backup perché l'applicazione è praticamente fotografata e già a disposizione quindi senza nessun impatto sull'applicativo stesso e di instant recovery perché appunto ho la possibilità di recuperare i miei dati oltre ad avere più copie a disposizione il meccanismo di snapshot mi dà la possibilità di fotografare il mio ambiente anche più di una volta al giorno tutte le volte che mi interessano nel momento in cui voglio ripristinare i miei dati sono in grado di scegliere tra le diverse opzioni che ho a disposizione quella più adatta o quella che voglio effettivamente ripristinare quindi visto quello che possiamo fare in ambiente diciamo infrastrutturale visto come possiamo focalizzarci sulle diverse tipologie di dati possiamo dire che il terzo step è quello della pianificazione rispetto a qualunque tipo di di failure parliamo quindi di un ambiente virtuale l'ambiente virtuale che ormai ovviamente la sta facendo la padrona ed è anche l'obiettivo insomma di 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 alcuni eventi come come quello odierno è proprio quello di vedere o integrare quello che sono le diverse realtà con quello che è l'ambiente virtuale volevo per potervi far vedere un po' come funziona una pianificazione del backup farvi vedere questa slide che mostra un po' un ambito virtuale un ambito di protezione dei dati con il nostro software data protector come potrebbe essere gestito innanzitutto questa parte della slide del mio ambiente virtuale con lato specifico di integrazione con VMware ho i miei server vSphere ho la mia console vCenter di gestione e ho i miei applicativi e i miei server dall'altro lato ho la soluzione di backup HP data protector un manager che gestisce una serie di uno o una serie di backup server che sono poi quelli che saranno integrati con l'ambiente virtuale l'integrazione avviene in maniera agentless ovvero non ho la necessità l'obbligo di andare a installare nulla sulle mie macchine virtuali ho semplicemente la necessità di colloquiare con il con il vSphere con il mio ambiente diciamo fisico che ospita le mie macchine virtuali e in automatico attraverso un agente di integrazione che andrà installato solo su il backup server posso ereditare tutte le informazioni sui vari volumi delle varie macchine virtuali nel momento in cui faccio partire il backup viene creata una snapshot dei miei volumi questa snapshot può essere presa in carico direttamente dalla data protector e può essere messa in atto la mia politica di backup che può essere mantenere la copia locale magari utilizzando le snapshot hardware che dicevamo prima dei virtual array oppure posso decidere di utilizzare l'ambiente di deduplica quindi un'appliance che mi consenta di ottimizzare il backup che sto effettuando posso sempre pensare di avere la mia copia di disaster recovery piuttosto che la mia copia di archiviazione che possano risiedere nello stesso ambiente come abbiamo visto prima di produzione piuttosto che invece nell'ambiente diciamo di archiviazione data protector è una soluzione che spazia un po' dappertutto soprattutto nell'ambiente virtualizzato gestiamo in primis VMware perché la fa un po' ancora da padrona ma anche ambiente Hyper-V piuttosto che altri fornitori di virtualizzazione con diversi gradi e diverse tipologie di integrazione possiamo gestire quello che è un ambiente virtuale di qualunque tipo quindi posso avere delle virtualizzazioni come quella di VMware che abbiamo visto prima che dove non ho praticamente nessuna necessità di installare agenti e che direttamente dall'ambiente diciamo fisico sono in grado di recuperare le informazioni posso avere invece la necessità di gestire un ambiente di hypervisor come se fosse un ambiente fisico in quel caso andrò a installare degli agenti sull'ambiente virtuale però lo vedrò dalla console centrale come se fosse un ambiente fisico quindi senza modifiche di nessun tipo nel mio flusso di backup quando vado a salvare i dati posso salvarli in ambiente virtuale così come in ambiente fisico ancora una volta e quando faccio il restore dei dati posso restaurarli in ambiente fisico o in ambiente virtuale quando parliamo di backup parliamo di differenti tipologie di backup che possono essere a livello di immagine o a livello di oggetto di singolo oggetto quando vado a effettuare il salvataggio dei miei dati e parliamo di compressione e di deduplica le varie integrazioni i vari diciamo meccanismi che mi permettono di creare come ad esempio il changebook tracking delle viste su quello che viene effettivamente modificato rispetto al precedente mi consente di andare a ottimizzare già il mio ambiente quindi di applicare quelle che sono le diciamo appunto delle ottimizzazioni nell'ambito del backup incrementale e direttamente data protector è integrato con changebook tracking ad esempio di VMware lo può addirittura abilitare lui posso abilitarlo dalla console data protector nel caso non fosse non fosse abilitato per quanto riguarda la trasmissione dei dati le tecnologie esistenti possono essere tutte utilizzate quando facciamo il backup dell'ambiente virtuale possiamo utilizzare sia la la LAN piuttosto che la SAN piuttosto che utilizzare delle tipologie di storage virtuale o fisico che sono all'interno dell'ambiente virtuale il tutto direttamente dalla console attraverso la definizione di policy di wizard che guidano nella compilazione di policy e che mi permettono scusate di definire il flusso esatto che deve tenere il mio dato quindi se lo devo salvare su disco su disco deduplicandolo piuttosto che farne una coppia una coppia deduplicata sul sito remoto piuttosto che farne una coppia esatta sul mio sul mio ambiente tape ad esempio per quanto riguarda invece la recovery dei dati come dicevo prima sono in grado attraverso dei single step process di gestire il recovery granulare dei miei dati quindi backup comunque tutto l'ambiente il backup con una snapshot faccio l'immagine del mio backup scusate faccio il backup della mia immagine per velocizzarmi per rimanere nella finestra di backup corretta ma nello stesso tempo garantisco la possibilità di navigare all'interno della mia immagine andando a recuperare soltanto il file che mi serve a fronte appunto di un failure o della perdita di un dato quindi posso ripristinare o l'intero sistema l'intera macchina virtuale l'intero data center oppure posso fermarmi a livello di oggetto che mi può interessare che può essere necessario come dicevo il massimo delle integrazioni sono con VMware ma mano a mano che gli altri hypervisor sviluppano delle funzionalità ci integriamo con l'obiettivo appunto di essere hypervisor independent ed avere un unico agente in grado di colloquiare con i diversi ambienti virtuali con i diversi attacare di colloquiare